Imprevisti è intercetto il trasporto della prezione della tecnologia e della meriveta Sento Vediamo cosa fare Grazie ora fino alla pista, ok ok andiamoci alla barra secondo me rivederti e giocando la nuova strada ora fino alla pista a taraggio meccano, ok poi il tizio mi vero sta sudando a freddo ricorre il cobalto nella cava lo lavoravano in una versione di grip speed sono lì a ci andare a scoprire con la cia, no? oggi hanno fatto un'interoperazione allo generale ci sono fatti prendere il panico teniamo il solo pressione, cerchiamo il carico e stiamo soccando ci divertiamo? allora, cadere? guarda lì a terra va bene ma non potevo mica restare con il volo puttana, che gratta dappertutto sto aereo sono interrato, ok, allora? sale sulle... ma che cazzo? ah, adesso c'è qua, ok, capito c'è il magazine dal Merry World c'è un po' di gente tra l'altro c'è il bing vecino non c'è il bing vecino non c'è il bing vecino però non so cosa stai in questo momento perciò l'abbiamo capito cosa faccio scegliere, ok Quanti cazzo ce ne sono qua? Ma ora mi divertirò ora Quena un pochino mi vuole divertire Allora dov'è? C'è un pochino silenziato come sembrava male E' un po' il cancro, non sa dire trova il veicolo Buonanotte Buttana Non sono mica scemi come una volta No buttana Oh mamma Una migliora You're going down Give me cover More ammo Move Coming your way Non sono mica scemi come un pochino Non c'è 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 un pochino They got guys coming for you so just press a way through and get to it. ok, ora andiamo si devo andare le altre si apre ora andiamo a saltare tutta la carne per bene penso di quanto qua dentro insomma ok ok ok, sono state rica di risurre ok, sono state rica di risurre ok, sono state rica di risurre Ehm, devo facciare un buco per passare dall'altra parte. Chi cazzo è successo? Porca puttana. Cosa è? Puttana Eva. Ehm qua, insomma, metto i miei avventori di coltre il caffio di aereo, dimmi che vado su. Via 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 via. me l'hanno buttato giù quel cavolo di aria un po' qualche botto ma va bene non sono senza manca da volare dritto verso un servizio di giugno e sta arrivando ok che cazzo è? guardi qua anche questo è un risultato di frequenza ancora adesso decido l'elicottero e non potrebbero agganciarti se ti muovi sai magari è puttanaccia eh scogliti dai coglioni non c'è te non per le palle non si va a fondare gallino vai intelligentone non scoppiano mica cazzo stape non scoppiano allora non scoppiano vorrei buttare lui oppure quel porco dio lì sta prendendo? ah non scoppiano spara spara ok facciamo un'altra data da a caso sono tutti i coglioni ok e si vai vai spara 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 ok non sono sicuro mi è andata male a salita ma stavamo prima di fare una birra e una pesciata ci vediamo alla base scopi neanche mi uscire uccidere sole arrivo e i u i i a pleuré no vabbè ok 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 il 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 Non è un po' di più, non è un po' di più Non è un po' di più Ciao